Musica Buongiorno a tutti e bentrovati con l'informazione di Molise TV. Oggi è sabato 16 gennaio e come di consueto iniziamo il nostro appuntamento dedicato alla rassegna stampa leggendo insieme le notizie del quotidiano del Molise. Temperature impicchiata e neve, l'ondata di giallo prevista fa scattare in tutti i paesi il piano di emergenza. Solo a Campobasso la Sea ha schierato già 60 mezzi. Il generale Inverno arriva dal mare e torna a fare il suo dovere portando sotto zero la colonnina di Mercurio. Nel taglio alto giunta l'assessorato alle attività produttive di Carlo Veneziale. Martedì parterà il primo tempo del Frattura Bis con l'ingresso in giunta di Carlo Veneziale. Il secondo consisterà nel ritorno di Michele Petraroia. E poi il patto della sicurezza, 500 telecamere di sorveglianza in 11 comuni molisani. Con l'aggiudicazione della gara d'appalto sulla videosorveglianza da parte della Siemens SPA al via il progetto per un Molise più sicuro. Cotugno, fondamentale per prevenire i reati. E il concerto a difesa della Corte d'Appello potrà essere seguito in diretta streaming. Martedì 19 gennaio al Savoia di Campobasso un appuntamento musicale e culturale con il concerto del Tratturo Etno Rock Band. Il comitato unitario visibile in tutto il mondo. Attualità a sciame sismico nel Molise intero. Gli esperti non facciamo allarmismo. Passiamo adesso alla cronaca. Sesto Campano afferra l'ascia e si scaglia sulla moglie. Guai giudiziari per un marito violento. Vediamo adesso lo sport. Serie D, i lupi, l'ansillotta, la sfida con la Samb regala stimoli particolari. Ancora serie D, ma zocco, soddisfatti di quello che l'Isernia sta facendo. Proseguiamo il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online. Tutto Molise. In risalto San Italia, ausiliari in presidio davanti Palazzo Vitale per chiedere lo stesso trattamento di chi, seppur senza requisiti, ha ottenuto la proroga del contratto. Sotto accusa anche i sindacati. E poi a Campochiaro, tragedia sfiorata al passaggio a livello. Violento schianto tra un treno proveniente da Napoli e un tir rimasto bloccato sui binari. Il leso ma sotto sciocchi il conducente. Ferite e contusioni per i passeggeri del regionale. E ancora Movimento 5 Stelle, uno scempio da Prima Repubblica. Questo è il commento dei consiglieri pentastellati, che hanno presentato una mozione che denuncia l'incompatibilità dell'assessore agnonese Maurizio Cacciavillani alla presidenza di Molise Dati. E andiamo adesso avanti con le notizie di Primo Piano Molise. In risalto, Petraroia esce allo scoperto e attacca Ruta e leva. All'Assemblea della Sinistra Demma, l'assessore di missionario affonda i due parlamentari. Se il PD ha fallito, hanno fallito anche loro. Intanto oggi, nuovo faccia a faccia tra il governatore e il senatore. In agenda la nomina di Veneziale. E poi continua lo sciame sismico, ma per gli esperti nessun allarme. Ieri altre cinque scosse avvertite ai piani più alti dei palazzi. L'epicentro tra Vinchiaturo e Baranello. Nel taglio laterale, Isernia amministrativa. Il centro-sinistra punta su Giuseppina Ferri, un commissario eletto dal Popolo. Boiano manovra in corso per le consultazioni di primavera. Massimo Romano potrebbe spuntarla su De Matteis. Ancora a maltempo, allerta meteo fino a lunedì. Previsto mezzo metro di neve a Campobasso. Nel taglio basso, camion travolto sui binari. La procura apre un'inchiesta sulla tragedia sfiorata a Campochiaro. Al vaglio degli inquirenti, la ricostruzione della dinamica. Sarà la magistratura a chiarire se ci siano stati errori tecnici e umani nella tragedia sfiorata giovedì sera sulla tratta ferroviaria a Campochiaro, dove un treno ha travolto un camion fermo sui binari. La procura di Campobasso ha aperto un'inchiesta. Proseguiamo adesso con una notizia proveniente dall'Abruzzo, in particolare dalla zona di Vasto. Verso il voto, Gian Giacomo è il candidato di Forza Italia alle primarie. Vediamo adesso le notizie sportive. Serie D verso Samb Campobasso. Lupi e Alessandro Scalpita per rientrare a casa sua. L'argentino è cresciuto a pochi passi dallo stadio. Calcio regionale, il Termoli anticipa contro il Treppini, Chance, Venafro, Promozione, Clu a Santa Croce. Calcio a 5, Isernia per il Trissi in casa del Torino. Ostia per la Wynn, la Chaminade va a Nuovo di Puglia. E continuiamo adesso il nostro appuntamento leggendo insieme le notizie del quotidiano online Futuro Molise. Isernia spunta il nome del vice prefetto Giuseppina Ferri, quale candidata a sindaco per il centro-sinistra alle elezioni comunali di giugno. Campobasso rissa tra due senegalesi e ragazzi del luogo sedata dai carabinieri. Regione Cotugno, la Siemens S.p.a. si aggiudica la gara d'appalto per il patto di sicurezza. I maggiori comuni del Molise salvaguardati da un sofisticato sistema di videosorveglianza. E andiamo adesso avanti con le notizie della Gazzetta del Molise. La prima pagina della Gazzetta del Molise è titolata Come muore Campobasso, 12.000 disoccupati, negozi che chiudono, edilizia ferma, morti che superano le nascite e 49.000 abitanti. L'Oscar del giorno è stato assegnato a tecla a Boccardo, mentre il tapiro a Pietro Maio. Proseguiamo con la lettura delle pagine interne. A pagina 2 leggiamo nel PD più parlano più si fanno del male. E poi nel taglio basso un intervento. Le dimissioni di Petraroia confermano la necessità di una crisi di giunta. Proseguiamo con la lettura di pagina 3, dove vediamo Mancano finanze e coraggio, la città è ferma. Campobasso registra un saldo demografico negativo e quello degli abitanti non è l'unico trend in perdita. E poi il Molise non può aspettare i tempi della politica. Andiamo adesso avanti con le notizie di Agenzia Stampa Molise. In risalto Regione Molise via al progetto Patto della Sicurezza. E poi Movimento 5 Stelle Molise, beni culturali, ecco i veri numeri. Anas, osservatorio del traffico. A dicembre 2015 flussi in aumento del 3%. Isernia, Capracotta, sicurezza sulle aree innevate. Il contributo del corpo forestale dello Stato. E dai quotidiani locali passiamo a quelli nazionali. Leggiamo insieme la prima pagina della Repubblica. La prima pagina della Repubblica titola con Unione Europea, duello Juncker, Renzi, flessibilità, Roma ci offende, Mogherini, stupido dividere, il Premier non mi faccio intimidire, Cina e petrolio, venerdì nero delle borse, stretta sugli statali, assente isti, licenziati in 48 ore. Francia, paziente, cavia, ucciso dal farmaco. Nel taglio basso, inferno, jihad, strage in Purchia, Faso. Proseguiamo adesso il nostro appuntamento, leggendo insieme le notizie del Fatto Quotidiano. Banca Etruria parla a Carboni, miei tre incontri con Papa Boschi, Affari e Grembiuli. Il faccendiere è condannato consigliere per l'istituto, Aretino. E le mani di Carrari sui 007 del governo, Cyber Security, la nomina diverrà ufficiale nei prossimi giorni. I servizi provano a resistere alla mossa di Palazzo Chigi. Renzi Juncker, guerra nell'Unione Europea per nascondere il buco nei conti. Lo scontro, la commissione contro Matteo. Andiamo adesso avanti con le notizie di Libero. Se esce la verità su Boschi salta per aria il governo. L'uomo accusato per la loggia segreta racconta l'uomo dei misteri di Etruria. Muredu ha fatto grossissimi favori al padre del ministro e anche a quello del premier. Per risolvere i problemi della banca si incontravano nel mio ufficio, ma ora sono in cattivi i rapporti, parla Flavio Carboni. E l'Unione Europea attacca Renzi a un problema a scontro senza precedenti con Juncker. Nel taglio basso aeroporto Colabrodo, in volo con le armi, i nuovi metal detector di Bologna non funzionano. Vediamo adesso le notizie della Gazzetta del Maggiogiorno. In risalto il duello Juncker-Renzi. Alta tensione sulla flessibilità. Padoan prova a raffreddare i toni. Pugno di ferro sui dipendenti pubblici. Licenziare gli assenteisti. Il commissario presidente non vi li penda la commissione. Il premier vincerò questa battaglia. E la xylella avanza meta il tarantino. Dateci subito nuovi controlli. Piante disseccate tra vetrana e salice. Nel taglio alto Bari, chiusa le auto via a Martiri d'Otranto. Ma un comitato promette battaglia il piano di pedonalizzazione del Redentore. E a Quedotto, a Elite nel CDA, Costantino sbatte la porta. Contestato l'aumento delle tariffe del 6%. Subito scontro con i due nuovi consiglieri nominati da Emiliano. Caccia al successore. Nel taglio basso, la sud-est, ripartono dai tagli ai dirigenti. Le ferrovie gravate da 310 milioni di debiti. E continuiamo adesso il nostro appuntamento. Leggiamo insieme le notizie di avvenire. Tensione alle Eurostelle. Juncker, il Premier offende. Siamo stati flessibili. Renzi, meritiamo rispetto. No alle intimidazioni. Duro duello a distanza tra il Presidente della Commissione dell'Unione Europea e il Capo del Governo. Banche fallite. Rimborsi prima agli anziani. E accanto a malati e anziani, Francesco in casa di riposo. Il Papa compie la sua opera di misericordia contro lo scarto. E poi una piazza per tutti. Ascoltare la famiglia. Roma il 30 gennaio per difendere il nucleo fondante. Chiudiamo il nostro appuntamento. Leggiamo insieme le notizie della Gazzetta dello Sport. La prima pagina della Gazzetta dello Sport è titolata Tango Scudetto. Tre argentini aprono le danze del girone di ritorno. Serie A. Oggi Inter in Napoli. Domani la Juve. Nel taglio alto Lira di Conte. Stage senza Big. No all'anticipo di Coppa Italia. Il CT è fuori bondo. Lascerà dopo l'Europeo. E con questo è veramente tutto. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al Meteo e vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Il Meteo è offerto da Signora, dico a lei. Acconsegni, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere. Previsioni del tempo per sabato 16 gennaio. Un flusso di fredde correnti da nord interessa la penisola, in particolare le regioni del medio e basso versante adriatico e il sud Italia. Sulle regioni del sud-est sarà una giornata dal tempo instabile, con piogge sparse su un gran parte dei settori, ma anche nevicate sui rilievi che riguarderanno entrosera le quote di bassa collina. Temperature minime stabili, massime indeciso calo. Vediamole nel dettaglio. Campobasso minima meno 1, massima 2 gradi. Isernia minima 1, massima 6 gradi. Termoli minima 7, massima 10 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Acconsegni, assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti. Ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV. E la famiglia torna a sorridere.